Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono Xyuderone e ragazzi le due posizioni di oggi delle musica 7 la prima la trovate qua a palme acquatiche sul palazzo principale sopra il muro più in alto qua siamo in parco giochi non la vedete ma la musica 7 è esattamente qua. Se poi vi spostate e raggiungete il boschetto bisunto vi faccio vedere esattamente dov'è la seconda posizione. Vediamo di raggiungerlo molto rapidamente senza neanche chiudere in modo che possiamo farcela senza problemi con la rigenerazione. Spruttiamo un secondo la scia dell'isola vi ricordo ragazzi che questo è il secondo blocco di sfide per quanto riguarda le sfide eroi senza tempo quindi potete sbloccare oggi il nuovo stile. Se non ricordo male del bright bomber qua adesso devono un attimo i ragazzi correggermi se mi sbaglio. A boschetto bisunto intanto ve lo anticipo mentre ci avviciniamo si trovano esattamente intanto io continuo con la rigenerazione così siamo più veloci ad andare. A boschetto bisunto si trovano in un tavolo dentro al tacos quindi assolutamente niente di difficile siamo praticamente arrivati a parte che boschetto bisunto santo dio dal palmetto è veramente molto lontano comunque io ve lo pingo di già. Dovete entrare nel taco e si trova esattamente lì la nuova musica setta quella praticamente che vi permette di completare la sfida. Datemi ancora un secondo di pazienza intanto mi raccomando ragazzi ricordo a tutti che sono sempre tutti i giorni in live su twitch dalle 8 del mattino alle 17. Mi sto veramente innervosendo a continuare a fare la rigenerazione ma abbiate veramente un secondo di pazienza per il povero xuder che ce la mette davvero tutta con la terza rigenerazione siamo riusciti ad avvicinarci al nostro boschetto bisunto ed ecco proprio che ci avviciniamo anche al taco e proviamo ad entrarci molto più comodo per me farle al di fuori delle partite normali siamo praticamente arrivati. Eccoci qua il tavolo in questione ragazzi è esattamente quello che sto per farvi vedere questo troverete qua la seconda musica setta io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live su twitch ciao Grazie a tutti